Amici, buona giornata dal Sensitivo Alocchi. Niente, questa mattina mentre ero in piazza al mercato di Cilecchi a comprare il pane, ho trovato un portafoglio con parecchi soldi dentro e l'ho riconsegnato al legittimo proprietario. Il proprietario mi ha detto che quando si vediamo poi ti offrono la colazione, però io ho fatto quello che doveva fare un buon cittadino, anche perché io, il parroco della chiesa cattedrale, Don Cono, appunto che mi ha sempre insegnato che non bisogna astrunamente rubare, non bisogna approfittarsi, quella è stata una dimenticanza, me l'ha perso, io gliel'ho ridato e beh, gli ho detto non te lo perde più, se non lo trovavo l'avrei portato o ai carabinieri o alla polizia, comunque ho trovato la persona, gliel'ho dato e basta. Comunque signori, solo questo volevo dire un buon proseguimento di giornata a tutti dal Sensitivo Alocchi Cilecchia. A proposito, se dovete, se trovate un portafoglio carico anche voi, prendete esempio dal Sensitivo Alocchi, non vi arricchiete intanto, se poveri siete, poveri, non vi arricchiete con 2-3 mila euro che non vi arricchiete, capito? E rimanete sempre uguali, capito? Di nuovo amici, una buona giornata a tutti, dal Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Grazie a tutti.